Numero 31 Bianchini Federica dalla provincia di Verona Numero 63 Centineo Paola dalla provincia di Torino Numero 103 Di Pasquale Natascia dalla provincia di Pistoia Numero 163 Lannini Ludovica dalla provincia di Roma Numero 179 L'Arcantoni Debole dalla provincia di Trento Numero 190 Melargo Alessandra dalla provincia di Torino Numero 199 Moro Marica dalla provincia di Bergamo Numero 245 Schettino Nero Nore dalla provincia di Milano Numero 320 Il Gennieri Alessandra dalla provincia di Padova Ragazzi andiamo avanti al numero per favore Scorriamo 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 da molti al numero grazie Bravissime perfetto ci siamo ci siamo Giuria a voi la categoria Junior Master over 35 Siamo adesso per fronte Alla prossima Vi fornire fuori Quarto di genere destra Vado a sudalo 10 E vandosa in fagni se portai la roba Ha ne Baio pavo fai piano eh Quarto, l'otticino a destra. Quarto, l'otticino a destra. Quarto, l'otticino a destra. Quarto, l'otticino a destra quattro dici la testa andiamo in crossback facciamo una camminata fino alla seconda linea andiamo in crossback quattro dici la testa quattro dici la testa torniamo sulla prima linea ancora quattro dici la testa ancora quattro dici la testa ritorniamo in crossback ritroviamo ancora in seconda linea rimaniamo sotto in back quattro dici la testa ancora quattro dici la testa torniamo sulla prima linea vieni devora vieni 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 devora vieni gioca inizio a chiamarvi in ordine crescente numerico del nostro numero di iscrizione per favore riempiamo le lips blu e non sconfiniamo sulla prima linea che poi vi serve per la T-Walk cercate di stringere grazie mille e allora women's bikini di passioner master per 35 iniziamo dalla numero 31 Bianchini Federica dalla provincia di Verona regia musica 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 You should keep the boy if he feels like home You should tell your mom that you have so much Stick around and put up a wall Then you get what you really want I think I'm gonna feel like I'm gonna show And you're gonna feel like a boy all I'm ever know I'm pretty sure there's no worth it out Yeah, I guess I know where I'm in We're good, we're good, we're good We're good, we're good And we're good, we're good, we're good And we're good, we're good, we're good Policcia di Torino You're gonna save me when I'm in too deep Seeing the trouble in me I don't break this what I preach You're gonna save me what I've gone too far When I let down my guard I should've break this what I preach I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care, I don't care I don't care, I don't care La diretta numero 63, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Pistoia. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Pistoia. La diretta numero 63, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Pistoia. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. La diretta numero 64, Centinello Paola a Torino, passa il testimone all'accetto, prendi qua a scuola e Natascia, nella provincia di Roma. I see you in love on the endless night I see you in love on the endless night I tell you as we can be walking Keep safe from the devil on my shoulder Yeah! I don't need some water lenders I don't need a hell of luck on Keep safe from the devil on my Keep safe from the devil on my Close my eyes and see the red It's been a dizzy on the end Atleta numero 163, Lannini Udovica La provincia di Roma Passa un testimone alla 179, Marcantoni Deboa Dalla provincia di Trento But you know I still want to do I don't need a hell of luck on Keep safe from the devil on my Keep safe from the devil on my shoulder And don't need some time if you're on my Don't need some time if you're on my And, you know, I don't need some time if you're on my Oh, my turn How every mind has come from my face All of life is out of space Put my eyes and see the light You're still on your face If my eyes are on your face Put your eyes and see the light You're still on my face Sì, sì, sì. Deborah lascia al palco la 190, Milar, Alessandra, la provincia di Turino. Grazie a tutti per la visione! Grazie a tutti per la visione! Grazie a tutti! 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 Quarto giro a destra, ancora quattro giro a destra, ancora quattro giro a destra, bravo Siete la regia, ci alzano la base, forza ragazze anche per voi, le vostre fosse migliori Musa Ok, allora appassiamo la base, la regia, se ci appassiamo, facciamo riferimento Tornate pure ragazzi negli agonari, come prima, così che iniziamo a premiarvi, richiamiamo Daniela Silano per prepararsi alle premiazioni Anche in questo caso, tra gli straordinari, con nove ragazze in categoria Iniziamo dalla posizione numero 9, è quella dell'atleta numero 320, Ingegneri Alessia Ecco che Daniela la raggiunge al centro del palco per l'attestato e la medaglia di partecipazione Alla tua sinistra, grazie Alessia E noi procediamo con l'ottava posizione Che invece sarà raggiunta dall'atleta numero 31, Bianchini Federica Ecco la medaglia al collo E poi a destra, no? Stavolta a destra Federica, nella posizione numero 8 Settima classificata L'atleta numero 63, Centineo, Paola Vai al centro, Paola, per ricevere la medaglia E poi a sinistra, accanto ad Alessia Per ricoprire la posizione numero 7 No, dalla fronte opposta, grazie Invece Federica ha un step a destra sul numero di riferimento Sesta classificata E quindi appena fuori dalla top 5 di questa categoria Women's Bikini Divas over 35 La numero 163 La Nini Ludovica Anche per lei, Daniela, ha la medaglia Vemati pure al centro, Ludovina, grazie Medaglia è attestata di partecipazione targata nel BFI E poi a destra, a destra stavolta La Nini Ludovica per il numero 6 Che viene disegnato a terra Grazie mille Quinta classificata invece L'atleta numero 245 Schettino e Onora Che di nuovo viene raggiunta al centro Dove il nostro Daniele Asilano E le viene messa al colo la medaglia di categoria Grazie mille Quarta, quindi appena fuori dal podio La saleta numero 103 di Pasquale Natascia Grande Tebola Per niente non accede Ai campionati europei Al Natura L'Olimpia E adesso si colloca a destra Sulla postazione numero 4 Invece vediamo adesso come è composto questo podio Nello specifico Sulla terza piazza Vedremo l'atleta con il numero 179 Marcantoni Debola Bravo Debola Ottimo, ottimo Debola Per lei la medaglia di bronzo Da parte di Daniele Asilano Già giusta la collocazione sul palco E adesso c'è rimasto l'atleta 190 La 199 Vediamo quale delle due è arrivata seconda Si classifica al secondo posto in questa categoria L'atleta 100 99 Moro Marica Per lei abbiamo la medaglia d'argento E conseguentemente Prima in categoria è arrivata seconda stavolta Prima Classificata Women's Bikini Divas Hover 35 La numero 190 Melargo Alessandra Che dunque si giocherà tra poco l'assoluto di categoria E riceve adesso da Daniele Asilano La coppa In questa categoria La medaglia d'oro E il buono Dal valore di 100 euro SBB Ecco la foto Al momento della foto di queste ragazze E un applauso La parte del pubblico presente Grazie mille a tutte voi E vi chiedo di concedarvi sul backstage Alla vostra sinistra Grazie mille ragazze Allora giuria Grazie mille a tutti